Musica Ho visto che io abito in un villaggio, quindi un pochetto pericoloso, perché lo sentite dei suoni. Dei villaggio. E abbiamo trovato delle cose speciali, che non sepe. Abbiamo trovato delle cose speciali. E' una bella che ci avevano con una scuola in un edificio principale. Poi lo che di pronto l'anno. Quanto per metterle? 5 minuti. Quasi lo... E andiamo qua. Eh si, se può distrugare il corpo di un figlio. Si libero. Se può distrugare il corpo. Si può distrugare il mio figlio, qual è l'abito? Io sono la scuola in un figlio. E' l'abito. E' l'abito. E' l'abito. E' l'abito. E' l'abito. Chidere! E' l'abito. Come fai ad uscire fuori del mio villaggio? Facile... Facile... Ci non entravi. Ok. E andiamo a tallare un pochetto di alberi. Andiamo 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 andiamo! Andiamo 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 and l'albero che poi lo rimpiantero qua datevi un piacce al video se mi piace che faccia dei video di Minecraft se non lascio commentate sul canale dite tutto quello che pensate non tutto iscrivetevi al canale e se volentà la casa mia dobblo e l'asciato il moreto e colo qua uno qui, otro qua yeah diamo qua non c'è no facciamoci 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 eeeh dimmi dallo ora ci devo fare tutto tutto quello che faccio il canale anche questo tutto la porta ce l'ho no 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 che ce l'ho troppo da piano no 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 n no 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 E il bambino del bambino d'oro Dicca C'è il oreggio C'è il bambino di tutto come il nostro bisogno se vuoi contenci quali il compagino come il video come il nostro materiale come il nostro bisogno Faccio una carota d'oro Che la carota d'oro Mi padre dei blochi Faccio una carota d'oro Faccio una carota d'oro Faccio una carota d'or Faccio la carota d'oro Faccio una carota d'oro Siamo fuori a buttare le fuori Perchè? Perchè costi almeno Badush! No! Badush! 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 Perchè! Perchè il viva il terreno 沒 Corriiii! I muretti, i muretti, i muretti! Corri, corri, corri! Chiodi, corri! Che si fa di notte! Ma che cosa voglio fare con questo? Voglio fare la... Vero, vero, vero! Il saco di lo lasciato! La gaccia con la gaccia! No, vengo a rinforzare! No, vengo a rinforzare! Vengo a rinforzare! No, vengo a rinforzare! Vengo a rinforzare! No lo so per kema! Secondo visto en un video! Y vengo a metere lini! Vengo a rinforzare! Vengo a rinforzare! No vei che la bebo? Wow! qua c'è un amiciero con i libri non è che che ce l'ha detto i libri vediamo questa spazza che l'ho trovata con un gioco 5 minuti spazza vediamo 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 Ah 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 Forza su perché Ah So moreno Fame Fame Mamá Ah Quémelo Quémelo questo si può riuscire qualcuno che prima questo è il mio e io ho un po' questo qua questo è il mio mio dio questo è il mio dio questo è il mio dio guarda che avevo lasciato guarda quello David Ladle Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, ma non me ne ho accorto di quel oro. Loro con loro. Io rimango con loro e non rimango con te perché sono troppo. O sono troppo tepe. E io sono te... La verita triste. qualche check ti farò una porta Scusa Oltretto da una notte Tras, ora faccio! Ah 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 Così la prigione Così la prigione Così la prigione Certo Ah Ah La decuela Con la decuela Con la decuela �� blu Dod Blu Do lo metto in 4 però non è uno si se fosse la faccia così devo metterlo aiuto ecco un bottone ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho un bottone ah non so perchè faccio questo ma nel minecraft questo è così ma nel minecraft originale un villano o uno zombie farebbe così nooo eh quinta la brillo le cuore oh 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 solo da un puñeto a uno di voi corre vi ! 6 7 8 9 10 11 11 12 13 i che sono invece uno strato a vedere una BR hija liberale 150 channel che sarà martedì perché ci sarà quella come è l'estatso ilETE e e e él e il eccolo ti c'h avanti eccolo fiona divlo che il totione è dal Ah! Sì, 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 sì! I've got videos!